Oggi prepariamo insieme i cantucci al cioccolato in mandorla, detti anche cantuccini, sono un dolce tipico toscano molto amato, biscotti super croccanti, facili e veloci da realizzare, ma soprattutto golosissimi. Sono così buoni che uno tira l'altro, provateli e fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando se provate la mia versione lasciatemi un commento. Prendete una ciotola, versate 3 uova medie, le classiche da supermercato, 200 g di zucchero semolato, lavorate il tutto con le mani, come vedete nel video io ho lavorato con la frusta, ma in realtà questa ricetta si lavora meglio con le mani, quindi vi consiglio di cominciare a lavorare il tutto con le mani. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, versate in totale 600 g di farina, 00 di grano tenero, però io la verso poco per volta. Una bustina di lievito per dolci, 125 g di burro ammorbidito. Se volete potete utilizzare l'ammoniaca per dolci, quindi se volete che questi biscotti durano nel tempo, li volete conservare per più giorni, vi consiglio l'ammoniaca per dolci. In sostituzione ovviamente al lievito per dolci. Una volta che avete versato la metà della farina, continuate a lavorare il tutto o all'interno della ciotola, oppure se volete potete passare su una spianatoia. Quindi cosa fate? Versate 200 g di mandorle e sopra versate la restante farina, quindi abbiamo versato in questo caso tutta la farina. Se non siete abituati a realizzare questa ricetta, vi consiglio di lavorare questa ricetta tutta all'interno della ciotola, perché le mandorle ovviamente su una spianatoia tendono ad uscire dell'impasto fino a quando il burro non si è sciolto bene. Quindi dovete lavorare benissimo il vostro composto e quando il burro si è ammorbidito e si è sciolto bene, si è amalgamato benissimo con il vostro composto, ovviamente le mandorle non escono più. Vi ho fatto vedere anche l'esempio della spianatoia, quindi vi consiglio comunque di fare tutto il lavoro all'interno di una ciotola capiente. Vado a versare per ultimo 100 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie, oppure se volete potete utilizzare le gocce di cioccolato. Se volete potete anche utilizzare più di 100 g in base ai vostri gusti. Lavorate benissimo il vostro composto, una volta che avete lavorato bene il vostro composto potete creare i vostri filoncini. Ragazzi si deve lavorare veramente bene, dovete sentire proprio sotto le dita che il composto è morbidissimo e si è sciolto benissimo il burro. Ve ne accorgete tranquilli, si deve lavorare benissimo. Ovviamente dalla voce vi siete accorti che non sono toscana e quindi sono una siciliana che si diletta a realizzare una ricetta toscana. L'ho fatta molte volte e credetemi la mia impressione è davvero super golosa. In questa occasione così voglio prendo diciamo questo spunto per salutare tutti i toscani. Ovviamente i cantucci toscani sono veramente il top. Quindi continuiamo con la nostra ricetta. Una volta che abbiamo lavorato bene il nostro composto possiamo realizzare i nostri filoncini. Io ho realizzato appositamente dei filoncini piccolini perché volevo realizzare dei cantucci piccolini. Se volete realizzare i classici cantucci dovete appiattire un po' di più il vostro filoncino. Quindi do forma a tutti i filoncini e li metto in una teglia con carta forno. Guardate come li vado a lavorare. Anche se la mandorle esce di fuori tranquilli voi la lavorate piano piano, inserite le mandorle e stendete piano piano il vostro filoncino. Si lavora benissimo con le mani e proprio è diciamo modellabile con le mani tranquillamente. Date forma al vostro filoncino e lo mettete nella vostra teglia con carta forno. I cantucci al cioccolato e mandorle sono esattamente ciò di cui avete bisogno per rilassarvi. Insieme a un bicchier di vino o di tè o caffè vi regaleranno una sensazione di comfort e tanto piacere. Come vedete questa ricetta dei cantucci al cioccolato e mandorle è molto facile da realizzare ed è una variante golosa dei classici dolcetti toscani. Sono i classici dolci delle feste di Natale e proprio per questo possiamo confezionarli per offrirli in dono e quindi a parenti oppure amici. Esistono tante varianti rispetto alla ricetta tradizionale dei cantucci alle mandorle. Provateli e fatemi sapere cosa ne pensate. Infornate i vostri cantucci a 170 gradi con un forno ventilato per 30 minuti. 25-30 minuti. Dopo questo tempo uscite i vostri cantucci, li tagliate quando ancora sono caldi e quindi date la forma ai vostri cantucci e poi li inserite nuovamente dentro il forno, sempre forno ventilato, a 170 gradi per circa 10 minuti. Quindi li facciamo tostare per bene. Provateli perché sono una vera e propria delizia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao! Ciao!